signori buongiorno e bentornati sul canale del mastercard io sono il mastercard e il vostro ospite su questo canale continuiamo il discorso sulla struttura in tre atti nei scorsi video mi sono concentrato sul spiegare cos'è la struttura e come deve funzionare adesso che diciamo che il discorso sul come è finito cominciamo a parlare del perché per adesso non mi sono mai soffermato a spiegare perché le cose devono essere fatte in quel modo e non debbano essere fatte in un altro cioè perché la struttura in tre atti esiste ed è così fondamentale principalmente perché almeno la mia opinione è quella che per far vedere perché qualcosa deve funzionare in un modo è molto più facile far vedere come se le cose venissero fatte in un altro modo non funzionerebbero tra l'altro questo è stato il primo video che mi è stato richiesto appena ho pubblicato il primo video sulla struttura in tre atti quindi evidentemente se ne sentiva la necessità quindi questa settimana cominciamo a parlare degli errori da evitare quando si utilizza la struttura in tre atti ovviamente il primo errore è quello di non seguire bene la struttura degli atti mischiandoli tra di loro accorciandoli allungandoli o saltandoli del tutto andando a creare poi una confusione che si ripercuote tutta la storia gli atti esistono per servire uno scopo il primo atto serve per introdurre i concetti fondamentali ai giocatori il secondo atto serve per far sviluppare i personaggi e sviluppare l'interazione che questi personaggi hanno col mondo e il terzo atto serve per portare la storia a risoluzione se stesse scrivendo un libro se stesse scrivendo la sceneggiatura per un film saltare uno degli atti o riposizionarlo potrebbe essere anche un comportamento lecito molte opere cominciano direttamente col secondo atto tecnicamente chiamato in medias res e poi le spiegazioni che sarebbero dovute fornire nel primo atto vengono fornite in seguito come inserti durante il secondo atto questo però in un gioco di ruolo non è un comportamento lecito i giocatori sono i protagonisti se si sta guardando un film chi guarda non necessariamente ha bisogno di sapere le informazioni che il protagonista del film a in un gioco di ruolo invece il giocatore ha bisogno di sapere perché le cose stanno succedendo e come bisogna comportarsi in relazione a determinati avvenimenti allo stesso modo i giocatori hanno bisogno di un secondo atto sia per sviluppare la psicologia diciamo l'interpretazione dei loro personaggi per quanto riguarda la questione che sta venendo narrata e molto spesso subentrano anche proprio dei motivi meccanici i personaggi devono guadagnare esperienza per comprarsi talenti per comparsi abilità per salire di livello quello che è però hanno bisogno di eseguire alcuni compiti prima di essere preparati alla risoluzione della storia senza contare che il secondo atto normalmente serve a introdurre l'antagonista e soprattutto le motivazioni dell'antagonista c'è bisogno di un momento decisamente lungo probabilmente più scene in cui i giocatori e quindi i loro personaggi capiscano contro chi stanno andando a confrontarsi e soprattutto perché debbono andarsi a confrontare con l'attuale nemesi e questo ci porta direttamente al secondo classico errore che viene fatto quando si applica male la struttura in tre atti cioè la mancanza di una motivazione la natura stessa del gioco di ruolo presuppone che i personaggi siano impegnati in un genere di compito che debbano portare a termine la natura del compito dipende dal gioco a gioco ma in linea di massima tutti i giocatori accettano senza problemi il fatto che loro debbano eseguire un compito loro debbano fare la missione il problema avviene quando durante il gioco non sono state previste delle scene che giustifichano questa missione i personaggi sanno di dover svolgere un compito ma in realtà non sanno il perché lo stanno facendo o semplicemente non hanno alcun interesse personale a portare a termine quell'incarico come già detto in altri video non basta che il master dica che il malvagio barone è cattivo e che deve essere sconfitto perché per i giocatori diventi importante sconfiggere il malvagio barone la struttura degli atti prevede due scene fondamentali perché il master introduca abbastanza accuratamente il personaggio dell'antagonista e la motivazione per il party che sono l'incidente iniziale e il climax del secondo atto in questi due momenti il master deve fare in modo che la faccenda diventi personale per i personaggi e in realtà se è possibile che diventi personale per i giocatori di quei personaggi se il master non interisce queste scene o le inserisce male le snobba le fa troppo velocemente le motivazioni per i giocatori si perdono e l'intera quest non diventa altro che una serie di check box che i giocatori devono spuntare per procedere con la storia è qualcosa che non sarebbe accettabile neanche in un videogioco figuriamoci in un gioco di ruolo la struttura prevede un numero limitato di scene un numero limitato di momenti drammatici in cui possano avvenire eventi importanti della quest anche se poi ognuna di queste scene può a sua volta essere un'intera sotto quest il numero totale di scene che avete a disposizione deve essere limitato non potete continuare ad aggiungere roba ad oltranza se no poi perderete totalmente il focus della narrazione questo va a causare due degli errori fondamentali che fanno la maggior parte dei principianti il primo è quello appunto di saturare la quest con scene che non hanno alcuno scopo nella narrazione quelle che sono chiamate le scene inconcludenti ogni scena all'interno di un racconto deve svolgere una funzione può essere un combattimento comunque un ostacolo che i personaggi debbano superare può essere un momento in cui debbano ricevere delle informazioni sulla loro missione o sull'ambientazione in generale magari può essere anche un momento che serve a dare colore e vivacità all'ambientazione ma ogni volta che una scena deve essere inserita dovete domandarvi se quella scena effettivamente serve se voi avete avuto una bellissima idea per una descrizione ma questa descrizione alla fine ai personaggi non serve a nulla non è che gli serve mandare avanti la trama non è che gli serve a capire meglio l'ambientazione è solo grafica quella scena deve essere tolta è inutile che voi descriviate una ad una tutte le astronavi che sono ancorate al molo spaziale se poi nel resto della storia queste astronavi non torneranno mai fuori e nessuno ne sentirà mai più parlare al contrario il secondo errore che fanno i principianti è quello della saturazione di scene cioè inserire scene che abbiano realmente uno scopo in trama scene che abbiano significato ma inserirne troppe esiste un numero limitato di sottotrame che i giocatori possano tenere a mente prima che tutte le informazioni si perdano nella nebbia indistinta dell'ambientazione normalmente è meglio attenersi alla guida che ogni storia ha una sua trama principale e una massimo due sottotrame non vuol dire che non potete avere più di due archi narrativi secondari ma fate in modo che prima di iniziare un nuovo arco narrativo quello precedente sia chiuso se i personaggi devono difendere il regno dalle armate del malvagio barone e come sotto quest devono ritrovare la figlia del sindaco rapita fate in modo che la figlia del sindaco sia stata rapita dalle armate del malvagio barone in modo che i personaggi abbiano soltanto un antagonista da tenere a mente non fatela rapire da un'altra organizzazione che per quanto possa essere interessante non c'entra nulla con la trama principale e finita la missione del recuperare la figlia rapita non rientrerà mai più in quest questo vale sia per le vostre trame quelle che voi inserite nell'ambientazione sia per le trame legate ai personaggi magari legate al background di ogni singolo personaggio o alle motivazioni che un personaggio ha sviluppato durante il corso delle varie quest a volte in questi casi bastano anche solo dei piccoli accorgimenti se ad esempio avete un personaggio che deve vendicarsi della moglie uccisa dagli orchi e un altro che invece vuole accumulare grandi ricchezze parlate con i giocatori e magari cambiate leggermente la storia del primo la moglie non è stata uccisa dagli orchi ma è stata uccisa dalle armate del malvagio barone e dite al secondo che lui sa che le armate del malvagio barone dato che non sono stupide girano sempre portandosi dietro la loro cassa delle paghe in questo modo entrambi i personaggi saranno perfettamente giustificati del focalizzarsi sulle armate del malvagio barone e di tre storie apparentemente distinte che puntavano in tre punti diversi adesso avete una storia principale e due storie secondarie che sono interessanti per tutto il gruppo dato che anche gli altri personaggi devono comunque andarsi a picchiare col malvagio barone e avete meno scene da dover inserire per giustificare chi sono gli scagnosi del malvagio barone perché fanno quello che fanno un caso a parte della saturazione di scene è quello del multi climax o dell'anti climax la struttura prevede solo due momenti di ribaltamento della linea narrativa uno nel secondo atto e uno nel terzo questo perché affinché i climax funzionino debbano essere limitati nel numero e debbano effettivamente portare a un significativo ribaltamento di quello che è l'arco narrativo se cominciate ad aggiungere momenti di climax in maniera indiscriminata il problema del multi climax appunto non alzerete di molto la tensione narrativa anzi causate l'effetto opposto se ogni due o tre sessioni tutto quello che i giocatori sanno viene ribaltato i giocatori spesso smetteranno semplicemente di pensare non non ha senso mettersi a raccogliere indizi e fare congetture se tanto ogni tre per due tutto quello che si sa viene cambiato da un colpo di scena si limiteranno a non fare assolutamente niente e aspettare che i colpi scena si susseguono con il multi climax avete ottenuto l'effetto opposto invece di rendere la storia più interessante l'avete resa meno interessante e invece di rendere il momento del ribaltamento narrativo un colpo di scena lo renderete qualcosa di aspettato i giocatori ormai si aspettano che ogni due sessioni succeda qualcosa di improvviso se i climax devono però essere soltanto due questi due devono essere effettivamente momenti drammatici che meritano e che ribaltino la storia per renderla più interessante non meno interessante questo è il problema dell'anti climax cioè quando all'interno una narrazione un ribaltamento non porta a un esito migliore o comunque a far succedere nuove cose ma porta a non far succedere niente l'esempio più classico è quello che gli avventurieri dopo mesi e mesi di viaggio e di quest per trovare la spada magica che è l'unica arma che può sconfiggere il signore del male arrivano nel tempio e la spada magica dove per un motivo per l'altro scoprono che no non esiste nessuna spada magica è stato il viaggio tutti insieme che avete fatto a rendervi più forte a darvi la possibilità di sconfiggere il signore del male questo è qualcosa che potrebbe andare bene per un film o per un romanzo in cui chi usufruisce la storia non è il protagonista si senta osservare il protagonista ma quando si è i protagonisti nella storia il discorso è veramente diverso perché una risoluzione del genere nella pratica vuol dire tutto quello che il master ti ha fatto fare per gli ultimi sei mesi di quest è stato del tutto inutile è molto difficile che un giocatore si senta effettivamente soddisfatto da questo esito e adesso dammi quella c***o di spada magica diciamo che per questo video è tutto come sempre mi piacerebbe sapere da voi quali sono gli errori che voi avete fatto con l'applicazione della struttura in tre atti o che il vostro master ha fatto nell'applicazione della struttura in tre atti e se e come è riuscito a recuperare da questa cosa diciamo anche che per quest'anno le fondamenta del dungeon finiscono qui abbiamo parlato di un sacco di cose un sacco di cose importanti quindi di roba su cui rimuginare ne avete riprenderemo piuttosto l'anno prossimo adesso non so bene come cominciando andare a vedere come effettivamente mettersi a scrivere una quest per un gioco di ruolo sì ci sono voluti appena due anni ma finalmente sto arrivando al punto mi sembra un tempo perfettamente ragionevole come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale se non volete perdervi i prossimi video iscrivetevi e schiacciate sul tasto della campanella per ricevere le notifiche io sono il master cae noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao